Giustamente sarà il rappresentante dell'amministrazione, Gianni Pompei, d'assessore, che sostituisce il sindaco a fare i giusti onori di casa. Buonasera a tutti. La semplicità, la dignità con cui comunque per tanti anni da emigrata porta avanti i valori della tradizione sarda. E quindi io sarò molto breve rispetto a Rino che invece si è dilungato un po', anche perché credo che chi è presente giustamente vuole sentire coloro che sono qui a rappresentare questa grande e bellissima manifestazione culturale. Per cui io ho due saluti da parte del sindaco, ripeto, e da parte dell'amministrazione e vi auguro a tutti un buon ascolto perché credo che questi valori dell'emigrazione, della cultura, delle tradizioni sarda sono veramente delle cose affascinanti, ma soprattutto sono cose a cui dobbiamo tenere per forza sempre. Grazie.